Il cantiere per i lavori della nuova illuminazione pubblica attorno alla collegiata di Arco hanno portato alla luce ieri uno scheletro risalente al tardo medioevo. Reperto che andrà ad aggiungersi ai ritrovamenti delle ultime settimane, alcuni reperti di varia natura e di varia origine e che ora dovranno essere esaminati con attenzione al fine di ricavarne tutte le informazioni necessarie alla catalogazione, datazione, provenienza e stato di conservazione. La soprintendenza della provincia di Trento sta tenendo sotto controllo la zona di scavo fin dall'inizio dei lavori, in quanto la zona attorno alla chiesa collegiata si trova un'area archeologica di grande interesse e dunque ogni intervento in profondità deve essere compiuto attuando una serie di accorgimenti finalizzati a presevarne integrità di eventuali ritrovamenti. Dal foro dove verrà posizionato il cavidotto sono spuntati fuori nei giorni scorsi frammenti di ossa umane, alcune parti di tombe, un pezzo dell'abside della vecchia chiesa di Sant'Antonio. La presenza di reperti antichi nei dintorni della collegiata è dovuta al fatto che in passato, in questa zona, era presente un cimitero accanto alla chiesa originaria.